Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Nel video di oggi continuiamo quella mini serie dedicata ai setups più profittevoli sui quali andare ad aprire posizioni nel trading di bitcoin e di criptovalute, quindi anche di altcoins. Questa serie l'ho iniziata circa un paio di settimane fa ed è finalizzata al condividere con voi quei pattern grafici, quindi quelle situazioni grafiche, definite appunto setups perché sono ripetibili, riconoscibili e patternizzabili, diciamo per l'appunto così, sulle quali andare ad operare in una certa maniera. Ovviamente i setups sono una cosa estremamente soggettiva, quindi io quelli che vi sto presentando sono quelli che per me hanno funzionato meglio. Statistiche alla mano chiaramente, io tengo un diario dei miei trades sul quale annoto i vari setups sui quali sono entrato, il risultato e quant'altro e quelli che vi voglio proporre a voi a scopo di acculturamento piuttosto che arricchimento delle proprie strategie sono quelli che mi hanno dato chiaramente migliori risultati. Questa serie dedicata ai setups si inserisce in un lavoro più grande che vorrei fare, che vorrei proporvi nell'immediato, magari subito dopo l'inaugurazione del canale Telegram che spero avverrà a breve ed è finalizzata a creare proprio un corso che parte da zero e costruisce tutto passo dopo passo, le basi del money management, del risk management, del position sizing, quindi quanto usare ad ogni trade, come gestire il capitale, insomma un qualcosa di più completo. Chiaramente sarà totalmente gratuito e disponibile qui su YouTube come tutti gli altri miei video. Se riuscirò a farlo come voglio io credo che sarà fino ad ora il lavoro più grande che abbia mai fatto qua sul canale di YouTube, quindi spero che lo apprezzerete. Oggi invece torniamo un po', ridimensioniamoci un po' e andiamo a vedere semplicemente un altro setup che prevede il posizionamento di due aree di accumulazione in un certo modo l'una rispetto all'altra che ci suggerisce un certo tipo di entry che vi spiego tra poco. Prima di andare a vedere i grafici però vi ricordo che se apprezzate sempre i miei contenuti e di mio lavoro lasciatemi cortesemente un like a questo video che per me è sempre un grosso incentivo a produrre, vedere che apprezzate i miei contenuti. Inoltre iscrivetevi al mio canale, cliccate la campanellina così non vi perdete nemmeno un video perché ne produco tanti alla settimana come sapete ed è facile perdersene uno ed è un peccato e basta, andiamo adesso a vedere il grafico e il setup di oggi. Nel presentarvi e descrivervi i vari setups cercherò sempre di portarvi dei casi di studio quindi degli esempi concreti, dei grafici sui quali andare a identificare i setups in questione identificarne l'operatività e soprattutto comprendere come leggerli che è importantissimo. Quindi l'esempio di oggi lo facciamo sulla altcoin Stratis e sto partendo dal time frame settimanale per un motivo ben preciso perché un'incitazione che io vi cerco sempre di fare è di partire sempre nelle proprie analisi da un time frame più ampio per inquadrare la situazione grafica e poi andare a fare le analisi del caso tuttavia un'analisi ai supporti alle resistenze ed ai trend su un time frame più ampio è sempre un valore aggiunto per qualsiasi tipo di analisi. Tiro via le RSI perché in questa sede non ci interesserà e andiamo a identificare per l'appunto supporti e resistenze in maniera molto banale ovviamente per quanto concerne la parte di movimento nella quale ci troviamo adesso non ha senso andare a identificare i vecchi massimi perché sono ben lontani come capirete. Il primo livello di prezzo significativo che ci interessa può essere questo che è una resistenza. Per quale motivo? Per il fatto che vedete ha respinto qua, ha accumulato un pelino qua, ha respinto la salita qua e attualmente ha una resistenza. Altro livello di prezzo che ci interessa può essere questo qui come livello appunto ancora di resistenza che ha respinto il prezzo un particolare numero di volte ha fatto un po' da range high diciamo in quest'area qui e lo sta facendo tuttora. Un altro livello significativo può essere questo che come vedete fa da range low al contrario quindi è un livello di supporto. E infine abbiamo il minimo. Quindi questi sono i supporti e le resistenze che vale la pena considerare nell'ultimo periodo. Non ha senso poi tracciarne 10.000. È importante vedere quali davvero significativi per i movimenti in corso. Quali su time frame settimanale solitamente sono i migliori in assoluto per le varie analisi. Quindi andiamo adesso a contestualizzare invece il movimento in atto e soprattutto a identificare il setup in questione. Cosa sta accadendo? Allora arriviamo da un fortissimo downtrend e siamo in una fase attualmente laterale sul time frame di medio periodo. Sul time frame di breve invece vediamo che possiamo dividere questa lateralizzazione in ulteriori sottofasi diciamo così. Allora facciamo delle linee verticali che magari ci aiutano. Abbiamo downtrend esasperato, ingresso nella fase laterale, ingresso in un'altra area di accumulazione più bassa della precedente, forte impulso rialzista, ingresso in un'altra area di accumulazione e poi ora stiamo procedendo. Quindi questo scandisce temporalmente il mercato in atto, il movimento in atto. downtrend lateralizzazione, lateralizzazione più in basso, impulso rialzista, lateralizzazione. La cosa che ci interessa nel setup in questione è proprio il posizionamento relativo delle fasi di lateralizzazione l'una rispetto all'altra. Quindi in particolare ci interessa vedere questa fase di lateralizzazione e quest'altra attualmente in corso. D'accordo? Chiamiamole 1 e 2. Queste due fasi di lateralizzazione sono posizionate reciprocamente la 2 sopra alla 1. Vedete abbiamo una conquista di un supporto, cioè di una resistenza che diventa supporto nel passare dalla 1 alla 2. e quindi abbiamo un movimento di fatto rialzista. Chiaramente nell'andare ad osservare le fasi di accumulazione e lateralizzazione non consideriamo le anomalie come questa o questa shadow perché questo è un falso breakout, chiaramente subito negato. Questa shadow è un'anomalia data probabilmente dalla scarsa liquidità del mercato di Stratis che sappiamo molto bene che abbia dei volumi disumani. Quindi cosa possiamo dire? Possiamo dire appunto che questa fase, questa lateralizzazione si trova sotto a questa e pertanto abbiamo un movimento, un sotto movimento perché il movimento principale è ancora di ribasso, di lateralizzazione post ribasso. Però abbiamo un accenno a risalire. Perché? Perché abbiamo un forte impulso rialzista che dà la direzionalità a quest'ultima fase a partire da qua in poi, quindi magari questa linea facciamola verde così si capisce che questo dà direzionalità rialzista al mercato che non è ancora stata negata. Per quale motivo? Per il motivo che non sono stati toccati ancora i minimi. Non sono stati ritestati i minimi e addirittura non siamo andati a creare dei lower lows che sarebbe ciò che nega la direzionalità impressa da questo forte impulso perché sappiamo che la direzionalità dell'ultimo periodo è impressa dal movimento più forte che si trova in esso. Quindi se abbiamo un movimento rialzista molto forte e il ribasso poi non è all'altezza dall'andare a creare un lower low piuttosto che dall'avere volumi equiparabili piuttosto che dall'avere candele di dimensioni paragonabili quindi se abbiamo un rialzo con candele lunghe e un ribasso con candele corte tecnicamente il ribasso è un ritracciamento e non un'inversione di rotta. Ok? Situazione che abbiamo identificato qua. Quindi questo per me già è un motivo per tenere d'occhio questo mercato l'avere queste due fasi di lateralizzazione in questa maniera, disposte in questa maniera. Inoltre ci sono altre cose da tenere in considerazione. La prima è l'analisi dei volumi che va sempre 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 fatta. Quindi come sono distribuiti i volumi? I volumi sono distribuiti maggiormente sul rialzo. Quindi vedete che il rialzo è accompagnato da volumi maggiori che il ribasso. E questo conferma la teoria secondo la quale il ribasso è un ritracciamento dell'impulso precedente. Inoltre cos'altro possiamo dire? Possiamo andare a cercare di inquadrare il movimento e il contromovimento seguente nell'ottica dei livelli di Fibonacci. Quindi vedete che andando a tracciare shadow to shadow che possiamo anche farlo partire da qua su quest'ultimo impulso che chiaramente è l'impulso predominante come abbiamo già detto vediamo che la lateralizzazione sta avvenendo sopra il 78,6 quindi lo rende ancora più interessante come livello da tenere sott'occhio proprio perché è il livello che spesso, se mi seguite lo sapete definisco come livello ideale per l'entry in un ritracciamento da un forte movimento impulsivo. Pertanto abbiamo capito che il posizionamento delle due fasi di accumulazione una rispetto all'altra è il fattore principale il fattore che mi induce a tenere sotto osservazione questo pattern e questo setup. La distribuzione dei volumi concorde con l'idea del ritracciamento in corso e inoltre il posizionarsi sopra a questo livello di Fibonacci e chiaramente sopra al supporto settimanale predefinito che è quello che divide l'area di accumulazione sottostante da quella precedente sono tutte considerazioni che mi incentivano comunque a dire che i sellers si sono particolarmente indeboliti e non hanno forza almeno non ancora per respingere il prezzo di nuovo a testare i minimi oppure più in basso quindi il movimento di nuova direzionalità positiva. Come si può operare su un movimento di questo tipo? Allora in questo caso si considera il range 2 che è quello nel quale ci troviamo. Cosa si può dire riguardo al range 2? Si può andare a definire il range high e il range low quindi più o meno qua vedete che abbiamo come range high questo livello e come range low ve lo faccio in rosso spero di non farvi troppo casino con tutte ste rig e come range low all'incirca questo livello quindi dove può valere la pena andare ad acquistare andare ad aprire posizioni allora se vogliamo fare i perfezionisti dalla metà del range al range low all'incirca quindi si potrebbe andare a dire anche magari frazionare degli ingressi dalla metà range low non lo so fare un 33 33 33 su tre livelli che possono essere un po' qua un po' qua e un po' al minimo oppure comunque andare a distribuire su una fase decrescente altrimenti come si potrebbe fare? Si potrebbe andare ad agire soltanto in trend following quindi attendendo un breakout dal range tuttavia in questo caso si rischia di perdere una parte del movimento in quanto il breakout potrebbe essere potente ed impulsivo e quindi insomma si tiene una posizione più cauta ma di contro si perde un potenziale movimento molto forte pertanto si può anche decidere di distribuire gli entries un po' dentro al range e un po' al breakout insomma lì è una scelta dettata dal money management fatto sta che un buon entry per me è un entry che va dalla metà del range al range low sono tutte by zones per questo setup qua lo stop loss dove si posiziona? sotto i minimi quindi se io ho il minimo qua lo stop loss potrei metterlo che ne so qua sotto ad esempio lo metto dorato questo può essere il mio livello di stop loss i take profits dove li vado a mettere? beh naturalmente anche quello dipende tutto poi dalla propria strategia però si va a vedere le principali resistenze quindi il primo potrebbe essere qua prendendo in esame questa posizione e il secondo potrebbe essere invece qua all'incirca quindi dove abbiamo la chiusura del giornaliero ci sono 10.000 righe c'è un casino atomico però cerco di ricapitolare il tutto perché alla fine è molto semplice ho parlato molto per darvi tutte le caratteristiche del caso però la teoria è davvero semplice abbiamo un downtrend in corso che va in lateralizzazione sfocia in lateralizzazione abbiamo due zone di accumulazione su time frame comunque discreto non si può andare a fare un discorso del genere sui 15 minuti perché diventa davvero molto più aleatorio su un time frame che può essere quello giornaliero che per me è sempre il giusto mezzo abbiamo una zona di accumulazione a cui segue un impulso rialzista che ritraccia in un'altra zona di accumulazione che si trova più in alto della precedente quindi abbiamo la conquista di un supporto e l'accumulazione sopra il supporto stesso dopo un movimento impulsivo per l'appunto più sono lunghe le zone di accumulazione e più acquista significatività questo setup e quindi più in voglia diciamo ad entrare ulteriori conferme possono essere date dai supporti e dalle resistenze su time frame settimanale come abbiamo visto in questo caso dalla distribuzione dei volumi dalla tracciare le linee di fibonacci dal fatto che le medie mobili si appiattiscono l'una sull'altra e per chi avesse ad esempio gli strumenti pro anche dal volume profile volendo perché il volume profile ci permette di identificare il point of control vedete il point of control si trova comunque in questo range in corso e pertanto è un'ulteriore conferma dell'importanza di questo livello di prezzo il fatto che ci muoviamo molto spesso qui appunto lo rafforza ancora di più e soprattutto ci fa comprendere come sia un attrattore del prezzo e come l'allontanarci da esso potrebbe innescare un movimento molto molto repentino quindi diventa interessante appunto monitorare l'andamento del setup in corso proprio per pescarsi questo potenziale movimento il risk reward viene gestito in maniera ottimale andando a piazzare un ingresso nella parte inferiore del range in atto uno stop loss sotto ai minimi locali quindi è uno stop loss molto conservativo se ci pensate perché non è sotto al range ma è sotto ai minimi quindi diciamo non è neanche troppo in balia delle balene ovviamente a meno che non capiti un'anomalia di questo tipo e i take profits naturalmente i primi in corrispondenza delle resistenze dell'impulso rialzista che c'è stato in precedenza e poi naturalmente se dovessimo andare a rompere i massimi si andrà oltre e si confermerà il reversal anche del trend di medio periodo spero che vi sia stato utile se avete domande fatemele perché insomma mi piace condividere con voi un po' questi setups e come andarli a gestire come andare ad aprire posizioni in maniera estremamente concreta a me piace molto la concretezza oltre che il parlare dire si potrebbe essere così così cosà mi piace anche mostrarvi un po' di fatti quindi si fa così questi sono numeri questi sono le cose da cercare lo stop loss si mette qui si mette lì si mette là poi ovviamente vi dico come sempre che non è un consiglio fidanziario bla 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 ma non voglio nascondermi dietro a certe parole per poi far finta di niente dire che tutto può andare bene io quello che uso quello che faccio ve lo condivido sempre e comunque ragazzi se apprezzate il mio lavoro vi ricordo lasciate un like iscrivetevi e quant'altro se volete supportare il mio canale con una piccola donazione di bat se utilizzate brave c'è il simbolino lì in alto e potete mandarmi una piccola mancetta che a me fa sempre piacere ragazzi ci vediamo al prossimo setup che continuerà questa serie e fatemi sapere cosa ne pensate a presto